Rueda, Radio Conca Grif, il più a largo, il numero 6, Rasia degli Ulivi. Rasia degli Ulivi, Radio Conca, Rueda, a largo Reale Mael. Duecento in sedici scarsi, sta passando Radio Conca, dopo circa trecento metri. Rimasta a largo Reale Mael, prova ad andare dritto. Trentuno e tre il primo quarto, Radio Conca e Reale Mael alle prese. Poi Roberta Live e Rueda, a seguire Roma degli Ulivi. Poi Rally Regal. 45.7.600, Reale Mael ha tenuto andatura sollecita. Adesso il rallentamento della leader che percorre in 1.2.5 il giro di pista. Seconda pariglia ci va Rally Regal, chiuso alla corda a Rueda. Chilometro in 19 secchi. Adesso allunga Radio Conca, prende vantaggio a Rally Regal che sta scavalcando Reale Mael in terza ruota. Si libera anche Rueda. L'ultima frazione in 15, che consente a Radio Conca di prendere tre lunghezze a Rally Regal e Rueda. 250 circa al termine della corsa. Fa velocità Radio Conca, 14.5 ancora una frazione, un quarto in 29.5. Si sta isolando Radio Conca senza essere nemmeno stappata. Non gli vengono abbassati i paraocchi. E conclude in 1.17.3. Un quarto conclusivo in 30.5. 1.1.9 gli ultimi 800 metri. Passeggiata di salute per Radio Conca Griff. L'auronometro è flaca della Safra Fass. Il training di Vincenzo Piscoglio dell'Annunziano. Insalchi G.P. Maestro. 2.51 euro la quota del vincente. Andiamo a rivedere battute conclusive con Radio Conca che arriva in suplessa. Mentre per il secondo, Rally.